Musica Ragazzi bentornati sul canale di guadagnare online con le criptovalute Questa sera non avete scuse, vi do l'opportunità di guadagnare 75€ facili facili senza alcun investimento Quindi mi raccomando rimanete col culo incollato alla sedia perché dovete guardare questo video fino alla fine Prima di cominciare però come al solito vi ricordo di effettuare l'iscrizione al canale YouTube Mi raccomando e cosa altrettanto importante di venirmi a trovare anche sul canale Telegram Cliccando su questo pulsantino qui, qualora stesse vedendo questo video tramite tablet oppure smartphone Basta semplicemente che andiate su informazioni e troverete il link del canale Quindi mi raccomando vi aspetto Allora prima di dire altre parole andiamo subito sul mio sito web Basta cliccare su questo pulsantino qui e se siete tramite smartphone o tablet sempre su informazioni Quindi mi raccomando o uno o l'altro Andiamo a cliccare sul pulsantino Andiamo nella sezione bonus E come vedete 75€ di bonus completamente free Abbiamo a disposizione 3 modalità semplici, semplici, davvero molto semplici Ovvero primo bonus da 15€ tramite carta N26 Secondo bonus di 20€ tramite carta Flow E terzo bonus di 40€, avete ben capito, 40€ tramite Buddy Bank Andiamo a seguire queste semplici indicazioni Che ovviamente trovate sul mio sito O semplicemente raggiungendomi sul canale Telegram E contattandomi anche in privato Io sono Dani sul mio canale Quindi mi contattate tranquillamente in privato E mi chiedete tutte le info necessarie per procedere Partiamo con carta N26 Quindi 15€ di bonus Per iscrivervi basta cliccare su questo link O altrimenti su questo pulsantino Una volta iscritti dovete inserire assolutamente il codice Danielel Quindi Danielel 1818 Mi raccomando scrivete il codice bene Perché altrimenti rischiate di non prendere il bonus Allora dovete convalidare il conto E lo fate tranquillamente in pochi minuti E ordinare la carta standard completamente a zero spese Quindi una carta completamente gratuita Effettuare una prima ricarica con un bonifico Da 20€ da un'altra carta Verso appunto carta N26 E come step successivo Come ultimo step Dovete o spendere questi 20€ Tramite la vostra carta che avrete ricevuto O semplicemente andare a uno sportello Bancomat E prelevare questi 20€ Quindi semplicemente Mettete 20€ Ritirate 20€ E avete 15€ di bonus Freschi freschi In che modo? 10€ da N26 E 5€ extra da me Con questo bonus Questo bonus Questo bonus praticamente verrà Accreditato E sarà spendibile O prelevabile Dopo 24-48 ore Dal momento in cui Avrete effettuato Queste operazioni Passiamo al secondo bonus Parliamo di Carta Flow Un'altra carta gratuita Che ci dà 20€ di bonus Amazon Per iscrivervi Basta cliccare su questo pulsantino qui Su questo link O altrimenti Tramite questo pulsante Cosa fondamentale anche qui Inserire correttamente Il codice Che in questo caso è Daniele La 2896 Poi convalidate il conto In pochi minuti E ordinate la carta standard A zero spese O altrimenti Utilizzate semplicemente L'applicazione Quindi non è necessario Neanche Che ordinate la carta È una carta molto carina Fatta in legno Anzi Anche N26 È molto carina È trasparente Quindi anche bella da vedere Dopodiché Dovete effettuare Una ricarica Tramite bonifico Da un'altra carta Verso Flow Appunto Di importo Di soli 5 euro Con questo avrete 20 euro Di bonus benvenuto 10 euro Per ogni persona Che invitate 20 euro Al decimo invito E ben 50 euro Al venticinquesimo invito Quindi Come vedete Qua ci sono Dei bei soldoni A disposizione Ma non solo Perché Andiamo a parlare Anche di Buddy Bank Che ci offre 40 euro Di bonus Cosa bisogna fare Basta Basta semplicemente Andare Sull'app store Di iOS Oppure di Android E riceverete Praticamente Dopo la procedura Di iscrizione La convalida E tutto quanto 40 euro Appunto Prelevabili Questo servizio Offre assistenza Da parte degli operatori 24 ore Su 24 Il bonus Come dicevo E' prelevabile Subitissimo E viene Accreditato Entro 15 giorni Ma Vi do Un trucchetto Allora Praticamente Nel momento In cui Riceverete L'SMS E La mail Per poter Procedere Con L'ultima Convalida Una volta Aperta L'app Troverete In basso Una B Dovete Cliccarla E parlare Con l'assistenza Chiedendo Semplicemente Quando arriverà Il bonus Loro Risponderanno Ovviamente Che il bonus Arriva entro 15 giorni Ma A me Il bonus E' arrivato Praticamente Il giorno dopo Che ho scritto Quindi Mi raccomando Ragazzi Affrettatevi Anche perché Queste offerte Sono a scadenza Quindi Dovete farlo Con urgenza Vi fanno schifo 75 euro Vi lamentate Sempre del fatto Che Bisogna fare Depositi Investimenti Poi non si sa Se Ritornano indietro I soldi o meno Bene Questo E' Un sistema Che vi da 75 euro Di bonus Facili Facili Ci vogliono Qualche minuto Per ogni Carta E Provvederete Appunto A ritirare I bonus Questo forse E' uno dei più brevi Video che ho fatto Nella mia Storia Da youtuber E forse Anche uno dei più Efficaci Perché 75 euro Non mi è capitato Mai Di Poterli Offrire Quindi Tornando a noi Mi raccomando Effettuate L'iscrizione Al canale Youtube E venitemi A trovare Sul canale Telegram Noi ci vediamo Alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti THE BEGEMIN'S BABY THE BEGEMIN'S BABY THE BEGEMIN'S BABY Ciao